Il parroco di Cabras, Don Giuseppe, Federico, Narbolia, Cristano, Sanvero, Antonio, Maurilatto, Dite il paese, Maurilatto, Cristano, Abbasanta, Martito, Maurilatto, 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 Erbania, Abbasanta, Ottavio, Milano, Salarussa, Salarussa, Reggio Emilia, Spartanò, Pardunò, 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 Ghevroni, Marbello, Cabras, quanti siamo non sono riuscito a contarvi, comunque siamo tutti noi, poi dopo lo vedremo. Allora proseguiamo, terza tappa adesso, seguiamo a Peppino perché sarà lui a indicarci la strada, ci sono due strade quindi dobbiamo scegliere quella dove va lui.